Tutti noi, chi più chi meno, viviamo in balia di tante paure, quelle paure che ci tengono al mondo in una posizione di continua sottomissione. Pensate a quanto siamo condizionati dai timori che ci vengono instillati giorno dopo giorno dai media, che sulle nostre paure in fondo ci campano. La paura è infatti una leva potente per suscitare interesse e spinge le persone ad andare a cercare soluzioni varie su questo o quel giornale o blog. Del resto questo è quanto anche i governi sanno bene, con la paura si gestisce meglio la popolazione, la si tiene meglio sotto controllo. Certo è un controllo illegittimo quando la paura viene instillata per fini immotivati o viene pompata come instrumentum regni, ma vaglielo a dire. Eppure per chi è cristiano ci sono alcune parole chiare dal Vangelo di Giovanni in cui Gesù dice voi avrete tribolazione nel mondo, ma abbiate fiducia, io ho vinto il mondo. Se lui ha vinto il mondo noi dobbiamo pensare che lo abbiamo vinto in lui e possiamo sempre dire con il Salmo 90 egli ti libererà dal laccio del cacciatore, dalla peste che distrugge, ti coprirà con le sue penne, sotto le sue ali troverai rifugio, la sua fedeltà ti sarà scudo e corazza, non temerai i terrori della notte né la freccia che vola di giorno, la peste che vaga nelle tenebre, lo sterminio che devasta a mezzogiorno. Mille cadranno al tuo fianco e diecimila alla tua destra, ma nulla ti potrà colpire. Solo che tu guardi con i tuoi occhi vedrai il castigo degli empi poiché tuo rifugio è il Signore e hai fatto dell'altissimo la tua dimora. Non ti potrà colpire la sventura, nessun colpo cadrà sulla tua tenda. Egli darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutti i tuoi passi. Sulle loro mani ti porteranno perché non inciampi nella pietra il tuo piede. Camminerai su aspidi e vipere, schiaccerai leoni e draghi. Lo salverò perché a me si è affidato, lo esalterò perché ha conosciuto il mio nome. Mi invocherà e gli darò risposta. Presso di lui sarò nella sventura. Lo salverò e lo renderò glorioso. Lo sazerò di lunghi giorni e gli mostrerò la mia salvezza. Ecco, se fossimo in grado di vivere con la fiducia che il Salmo 90 ci comunica, forse saremmo anche noi in grado di vincere il mondo in Cristo e di vivere questo tempo terreno con più fiducia e meno condizionati dalle nostre paure.